Un figlio di papà acquista una Lamborghini arancione cabrio bellissima e dagli che sta tutto il giorno a far coatto intorno al paese con sta Lamborghini. Un giorno si ferma un baretto sulla strada e dentro c'è sta un contadino che come vede la macchina comincia a fare tutti i complimenti. Però gli è confita che lì vicino c'è sta una fattoria, c'è un signore che ha un conio talmente veloce che si fanno a gara e vince contro la macchina. Capirai? Sto fischiello che fa tutto per volato, esce dal bar, sale in macchina, segue il contadino e si fa portare a sto casale. Quando arrivano là c'è sta il contadino che gli fa vedere sto conio e effettivamente sostiene che sto conio corre più dalla macchina. Allora il figlio di papà gli fa guarda, sono disposto a scommettere i miei qualsiasi sordi, dai fammi una gara. Lo portano sull'autostrada, sto fischiello fermo con Lamborghini e il contadino mi fa sei pronto? Sì, lascia il conio dalle orecchie e il conio più e parte. Questo con Lamborghini parte prima, seconda, terza, 180, 190, voglia passa davanti, 190, 200, 210, guarda il finestrino, c'è sta sempre sto conio dietro, 230, 240, 250, butta la quinta, 270, guarda lo specchietto, è sempre conio... 280, 290, 300, questo proprio... Aaaaaah, il motore a stecca, fuori i giri va a 310, 320, guarda lo specchietto, sempre conio... Se ne gira distratto c'è sta un trattore fermo in mezzo alla strada. Pum! Vole via un'esplosione, questo vola tipo a 500 metri di distanza, la macchina dilaniata è un macello, arrivano i soccorci con l'elicottero, vengono a via un disastro, tutto il campo a fuoco, lo mettono su sta baralla che l'elicottero, lo viene, lo portano all'ospedale e fin da vita è sbriciolato. Ho portato un'operatoria, l'opera non riesco ad osservargli la vita. Dopo tipo 4-5 mesi di gomma se li sveglia e cominciano a andarlo tutti a trovare, fino a qui entra pure il contadino, lui con tutto un fasciato con la bocca chiusa e gli fa, ma tassi tua, e d'arcodico, e lui fa, a me dispiace, e dalla tasca tira fuori un par di orecchie, tutte pelose, e quello con tutto un fasciato gli fa, ma che cazzo so, e il contadino gli fa, e te ce l'avevo da te a frenare a 320 col culo. Ahahahahahahaha!